Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Ebbene, il Partito Democratico, cappeggiato dall'arcobalenica Elish Line, pare ogni giorno di più politicamente alla frutta, come usa dire. Adesso l'ultima trovata di Elish Line, così leggo sui principali e più venduti quotidiani, è quella in forza della quale Elish Line starebbe valutando l'ipotesi di candidare per l'europea Ilaria Salis, la attivista italiana reclusa attualmente nelle carceri ungheresi, rea di aver organizzato o comunque partecipato a uno scontro molto duro con estremisti di destra, la Salis è comparsa qualche mese addietro, incatenata in tribunali in Ungheria, scene francamente orribili che mai avremmo voluto vedere e in ogni caso adesso Elish Line punta alla possibilità di portare al Parlamento Europeo Ilaria Salis. Ecco, non mi pare un'idea entusiasmante, se debbo dire la mia, mi sembra semmai la prova provante del fatto che il Partito Democratico rappresenta al meglio una sinistra neoliberale atlantista, totalmente dimentica di Marx e di Gramsci, attenta solo ai capricci arcobaleno di consumo per certi ambienti, alla green economy, al liberale atlantismo, insomma l'opposto di ciò che pensavano Gramsci e Marx, che se oggi fossero ancora in vita probabilmente verrebbero bollati come fascisti dalla sinistrasse fucsia arcobaleno. Chi volesse approfondire la mia critica radicale della sinistrasse, una critica fatta da un soggetto, il sottoscritto, che non è affatto di destra e che critica ugualmente la destra e la sinistra, può trovare una più puntuale analisi nel mio libro Sinistrasse contro il neoliberismo progressista. Quel che è chiaro è che quest'ultima trovata di Elish Line si iscrive perfettamente nel quadro di una sinistrasse kafkiano-metamorfica totalmente distante da Marx e anzi nemica diretta di ciò che aveva pensato e detto Carlo Marx.